Siamo qui per firmare un contratto per correre l'anno prossimo. Perché tu cosa fai? Corri in moto. Corri in moto? Da quanto? Dal 2013. Quindi eri proprio piccino, quanti anni hai? A gennaio 15, 16. Ah, ok. Quindi entri in un team nazionale, quale? Sì, il 6.58, squadra e corsa. Quindi il team dove correva anche il compianto Simoncelli, sbaglio? No, 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 è un team che ha creato il fare di Simoncelli, non un team che già esiste. Sono tre anni che esiste. Ti trovi bene? Sì, sì. Per l'anno prossimo? Per l'anno prossimo appunto ci impegniamo nel campionato mondiale junior, che sarebbe un europeo. E niente, cercheremo di tirarne fuori il meglio. E i risultati di quest'anno? Quest'anno è stato un po', diciamo difficile, ma, cioè, però siamo riusciti a capire un po' come funziona, siamo entrati di più nel mondo delle moto, nell'ottica delle moto. Quindi penso che sia stato comunque positivo. Va bene, un grandissimo in bocca al lupo. Grazie. Grazie.